1812, Napoleone si ritira da Mosca 1968, muore Aldo Capitini 2005, Bagdad si apre il processo a Saddam Hussein Commenta il fatto del giorno Alberto Faustini, direttore di Alto Adige e Trentino Oggi ricordiamo tutti le sue canzoni, magari non sappiamo che dietro c'è il grande paroliere Alberto Testo, di cui parlerò oggi